In seguito ai fatti di Udinese Milan, gli insulti razzisti all'indirizzo di Mike Mignan, il giudice sportivo della Serie A ha deciso che l'Udinese dovrà disputare una gara con l'intero stadio chiuso. Andiamo a cercare di capire quali sono le motivazioni rispetto ad altri casi della scorsa stagione in particolare che riguardano Juventus, Atalanta e Lazio per capire se si tratta di una decisione congrua oppure se è applicato un metro di giudizio diverso. Nel comunicato 149 di questa stagione si legge Gara società Udinese società Milan, il giudice sportivo visto il referto arbitrale nonché il rapporto dei collaboratori della procura federale in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni durante la gara il calciatore della società Milan Mignan Mike Peterson e che hanno portato all'effettuazione di numero due annunci con altoparlante nonché a una prima interruzione del gioco per circa un minuto di poi a una sospensione della gara per circa cinque minuti, ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati che hanno comportato l'adozione delle misure previste dall'apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali. Gravità che da un lato rende recessivo l'elemento della dimensione, dall'altro conferma e affatto smentisce l'ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto dalle norme, della percezione reale, vista in questo caso la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara interrotto per ben due volte, rilevato altresì che non sono state riportate durante e dopo i fatti e nonostante i due annunci al pubblico chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori, elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante e fin anche esimente in presenza degli altri presupposti, rilevato non di meno che il comportamento attivo della società udinese e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per le individuazioni dei responsabili fanno sì che per un evento di tale portata in gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall'articolo 28,4 codice di giustizia sportiva ovvero l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse per questi motivi delibera la sanzione di sanzionare la società udinese con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse. Invece nel comunicato 180 della scorsa stagione leggevamo gara società Lazio società Roma del 19 marzo 2023. Il giudice sportivo considerato che nel corso della gara sono stati intonati i cori beceri e offensivi di matrice anche religiosa nei confronti dei sostenitori della società Roma considerato altresì che i collaboratori della procura federale riportavano nella loro relazione che nel corso della gara la curva nord tifoseria Lazio 100% intonava i cori suddetti e pertanto in base a quanto sopra riportate emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione a norma di ai fini della punibilità degli stessi considerata in particolare l'obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie avuto riguardo a durata ripetitività dimensione e percezione sicuramente rilevanti ritenuto non di meno di dover valorizzare anche ai fini dell'applicazione delle attenuanti nonché della sospensione condizionale la disponibilità e del comportamento collaborativo della società Lazio nel coadiuvare le forze dell'ordine nell'attività di individuazione del responsabile nel pervenire anche con pubblica dissociazione il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni per questi motivi delibera di sanzionare la società Lazio con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato curva nord privo di spettatori dispone per i motivi suddetti la sospensione della pena per il periodo di un anno con l'esplicita preventiva avvertenza che se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione ancora nel comunicato 182 stagione 22 23 leggevamo gara società Juventus società internazionale il giudice sportivo considerato che in questo caso coppa italia come segnalato dal rapporto dei collaboratori della procura federale sostenitore della società Juventus occupanti il primo anello del settore denominato tribuna sud elevavano al 35esimo e al 49esimo del secondo tempo beceri insultanti cori e grida di discriminazione raziale nei confronti del calciatore della società internazionale Lukaku Bolingoli Romelu considerato altresì che nel suddetto rapporto i collaboratori della procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale percepite da tutti e tre i rappresentanti della procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto provenivano dalla maggioranza dei 5034 occupanti il predetto settore primo anello del settore denominato tribuna sud ritenuto che in ragione della gravità della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo i predetti comportamenti sono rilevanza disciplinare per questi motivi delibera di sanzionare la società Juventus con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato tribuna sud primo anello privo di spettatori infine nel comunicato 214 della stagione 22 23 leggevamo gara società atalanta società Juventus il giudice sportivo considerato che come segnalato dal rapporto dei collaboratori della procura federale ai sostenitori della società atalanta occupanti il settore denominato curva nord pisani levavano al 46esimo 47esimo 53esimo e 54esimo del secondo tempo cori beceri e insultanti di discriminazione raziale nei confronti del calciatore della società Juventus dušanvlaovic considerato altresì che nel suddetto rapporto i collaboratori della procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale percepite da tutti e quattro i rappresentanti della procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto provenivano fino all'80% circa dei 9.000 occupanti il predetto settore denominato curva nord pisani considerato che di tale comportamento del pubblico prendeva nota il direttore di gara che chiedeva di avvisare dell'accaduto il responsabile dell'ordine pubblico per gli annunci di rito considerato che il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di casa nei confronti della propria tifoseria ed in un'occasione i fischi di disapprovazione da parte del restante pubblico non riuscivano a impedire il ripetersi di tali deprecabili manifestazioni ritenuto che in ragione della gravità della dimensione della percezione del reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare per questi motivi delibera di sanzionare la società atalanta con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato curva nord pisani privo di spettatori era necessario leggere tutto per capire che evidentemente nel caso dell'utinese pur a parità di ricostruzione dei fatti in particolare rispetto al caso della lazio e al caso della juventus c'è stata una sanzione diversa solo nel caso dell'atalanta infatti c'è stata una reprimenda da parte del resto dello stadio c'è stata una dissociazione da parte del resto dello stadio che non c'è stata come scrive il giudice sportivo nel caso dell'udinese ma non c'era stata neanche con la lazio e con la juventus come abbiamo potuto leggere addirittura mentre nel caso della lazio si è fatto riferimento ad una fattiva collaborazione della società per cui si è avuta anche la sospensione condizionale oltre che la pena minima di una gara con un settore chiuso nel caso della juventus non si era avuta la sospensione condizionale ma era stata comunque una gara la sanzione con un settore chiuso nonostante non fosse fatto menzione nel comunicato della collaborazione fattiva della società bianconera che poi non ha avuto nessuna sanzione perché le carte sono state inviate all'interno del procedimento dalla figicia alla procura con 14 minuti o 12 minuti di ritardo alle 14 e 12 e la juventus si è aggrappata a questo vizio formale ottenendo sostanziale impunità per questi fatti ma a prescindere da come e se vengono applicate le sanzioni sospensione non sospensione vizio di forma è la decisione sostanziale che fa discutere dalla lettura dei comunicati e delle motivazioni del giudice sportivo si fa fatica a capire perché alla lazio una giornata con un settore all'atalanta una giornata con un settore alla juventus una giornata con un settore mentre all'udinese una giornata con tutto lo stadio e stiamo parlando comunque di cori insultanti discriminatori che poi in alcuni casi sono ripetuti per più minuti in altri casi per meno minuti ma l'estensione del fenomeno a centinaia di persone riguarda tutti questi quattro casi che vi ho mostrato in alcuni casi di più in altri casi di meno ma si tratta sempre di percezione reale si parla di percezione reale e di una vastità del fenomeno quindi davvero si fa fatica a capire quali siano gli elementi fattuali in più che possono giustificare questa decisione del giudice sportivo contro la società udinese differente molto differente rispetto al passato e quindi ha ragione chi dice che c'è stata una disparità di trattamento e quindi complimenti a chi nello specifico lo diciamo chiaramente il direttore di tutto sport guido vaciago ha fatto un video e ha parlato apertamente su tutto sport di questa disparità di trattamento mentre in passato altre disparità di trattamento non erano state segnalate ma meglio tardi che mai e va premiato il coraggio dell'onestà intellettuale di dire le cose come stanno poi ci sarebbe da discutere sull'equità giuridica e sociale dei daspo e ci sarebbe da discutere anche su questo genere di sanzioni chiudere settori e chiudere interi stadi per pochi fascinorosi per pochi razzisti penalizzando anche tutti quanti gli altri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti